Nel VCO un terzo dell'industria della vacanza è donna, più 6,5% in quattro anni, lo riferisce la Camera di Commercio del Verbano Cusiossola. Siamo in linea con la media nazionale con come evidenziato una sensibile crescita delle aziende rosa nell'ultimo quadriennio. Qualche altro numero nel VCO il 31% delle imprese governate da donne registrato nel comparto turistico inteso come alloggio e ristorazione. Nel dettaglio sono 536 le imprese registrate al 30 giugno 2019, di queste quasi l'80% nella ristorazione e circa il 21% nell'alloggio. Rispetto al 2015 sono oltre il doppio le attività di bed and breakfast e affittacamere gestite da una donna, in aumento anche i ristoranti che passano da 122 nel 2015 a 155 nel 2019. In lieve flessione i bar, meno 8 imprese rispetto al 30 giugno 2015. In linea più generale il riferimento qui è Union Camere Nazionale, come mostrano i tassi di femminilizzazione di questi settori, date dal rapporto tra imprese totali e imprese femminili, nell'avviare un'attività dedicata alla vacanza e al divertimento, le donne puntano di più sui bed and breakfast e sulle case vacanza piuttosto che sugli alberghi, più sui bar piuttosto che sui ristoranti.